Una potenza da 8 a 10 MW, una superficie di 10 ettari e almeno 10 GWh di energia elettrica annua. È il nuovo parco fotovoltaico che sorgerà nella cava tra i comuni di San Dorligo della Valle e Trieste. Proprio con questi due comuni, assieme a Elettra-Sincrotrone e Regione Friuli-Venezia-Giulia, è stato sottoscritto un protocollo di intesa per aiutare il prestigioso Centro di Ricerca Internazionale di Basovizza ad abbattere i costi dell'energia e a contribuire alla riconversazione verso fonti rinnovabili. L'accordo per migliorare la collaborazione nello svolgimento delle attività tecnico-amministrative in fase di programmazione e autorizzazione del futuro parco fotovoltaico. Oggi la Giunta ha approvato una delibera per un protocollo con il Comune di Trieste, San Dorligo, la Regione e l'Elettra-Sincrotone per andare a ipotizzare e progettare un parco fotovoltaico. Questo servirà appunto a questa importante eccellenza internazionale che abbiamo nel nostro territorio a ridurre le spese di energia che sono aumentate di molto. Visto che quest'impianto utilizza molta energia, riteniamo che sia molto utile per un risparmio energetico, ma anche e soprattutto per i bilanci dell'Elettra-Sincrotone. Il Centro di Ricerca Multidisciplinare per il funzionamento delle macchine di luce elettra ai fermi utilizzi in media all'anno circa 32.000 MWh di energia elettrica prelevata dalla rete elettrica nazionale e circa 5,5 milioni di metri cubi di gas naturale per alimentare i principali impianti. Un progetto che noi crediamo e auspichiamo venga realizzato possibilmente in un tempo anche abbastanza breve. Elettra-Sincrotone con il nuovo parco fotovoltaico intende inoltre ottimizzare la produzione solare dotando l'impianto di un sistema di monitoraggio delle performance dei pannelli affinché il parco divenga un laboratorio tecnologico di ricerca all'avanguardia per studi multidisciplinari e sviluppi scientifici di portata internazionale legati alle tematiche energetiche.